Il primo tool, il primo software che desideravo farvi vedere a completamento di questa video lezione sugli ebook e su LibreOffice, non ha nulla a che vedere con LibreOffice, però se vi ricordate nella pagina in cui potevamo scaricare l'estensione era uno dei due software citati. Questo software si chiama Sigil, che possiamo scaricare dal suo sito sigil-ebook.com. È un software multipiattaforma, quindi vuol dire che funziona sulle tre principali sistemi operativi, Windows, Mac e Linux. Per quanto riguarda Linux, chi di voi lo utilizza generalmente trova Sigil direttamente nei repository. Sigil è un vero software autore per ePub. È un software molto potente che vi permette di manipolare l'ePub e creare un ePub da zero. Se l'ho già installato e ho già caricato anche il file che abbiamo generato prima con LibreOffice. Riparto da zero e vi faccio vedere cosa succede. Lo apriamo. Nella parte sinistra Sigil ci mostra sostanzialmente tutti gli elementi di base del nostro ebook. Abbiamo la parte del testo, questa è la copertina, questa è proprio la struttura del nostro libro sostanzialmente. Vedete che abbiamo il primo file che contiene il primo capitolo e il secondo dove avevamo inserito anche la foto. Questa è la struttura, la tavola dei contenuti, quindi cosa contiene il nostro ebook. Per chi di voi vuole imparare ad utilizzare i CSS o già li conosce, c'è la possibilità di editare il file del stile e chiaramente posso migliorare ancora di più la forma grafica della formatazione dell'ebook. Troviamo la cartella con le immagini, se andiamo a vederle sono le immagini che abbiamo inserito all'interno del nostro ebook. Se avessimo incluso anche il font lo troveremmo nella cartella fonts, se avessimo degli audio o dei video li troveremo qui oppure in miscellanea un po' tutto quello che non ha a che fare con le altre cartelle. È uno strumento molto interessante da utilizzare perché comunque posso editare sia la formatazione tramite il foglio di stile, la barra degli strumenti che abbiamo ci viene incontro perché in maniera visuale possiamo formattare il nostro ebook. È chiaro che accedendo direttamente al codice dello stile abbiamo un maggior controllo della formatazione. Vedete che gestisce fino a sei tipologie di titolo, ok questo è il codice H1 H6 sono i codici classici del HTML, XHTML e via dicendo. Sigil come LibreOffice ma piuttosto che come Calibre che è l'altro software che vedremo dopo è estendibile aggiungendo dei eventuali plugin che possiamo trovare in rete. interessante funzionalità di Sigil è anche la possibilità di verificare se l'ebook che abbiamo realizzato quindi se il codice che ci sta sotto è ben formato. Sigil ci mette a disposizione uno strumento che troviamo sotto strumenti e si chiama controlla i pub ben formato e è attivabile anche con la scorciatore di tastiera F7. Se ci clicchiamo sopra ci viene nella parte in basso mostrato nessun problema trovato. Se avessimo lavorato sul file e avessimo inserito qualche codice o qualche elemento che non fa parte normalmente delle pub ci verrebbe mostrato un segnale di errore e con l'esatta posizione dove andare a pescarlo e per correggerlo. Sigil può essere utilizzato in abbinata a LibreOffice e l'estensione che abbiamo utilizzato per migliorare l'ebook che abbiamo realizzato con LibreOffice. Chiaramente è molto più semplice partire da LibreOffice partire da un ambiente che conosciamo come sistema di videoscrittura, esportare il nostro testo in EPUB e poi con Sigil metterci mano e cercare di migliorarlo nella sua formatazione e nella sua eventuale usabilità. L'altro software che volevo farvi vedere, che probabilmente qualcuno di voi già conosce...